Tra due settimane c'è l'inaugurazione delle universiadi. Oltre a Mattarella, Conte ieri ha detto che sarà presente. Anche qui, io ho detto prima a quattro occhi e poi pubblicamente che vedevo un governo distante dalle universiadi. L'universiadi è un evento internazionale che può dare grande lustro al paese. Ho visto un governo finora distante, lontano, indifferente. Il presidente mi sembrava molto attento, quindi l'ho invitato a venire. Lui pubblicamente, poi avendo io ripreso anche questo tema pubblicamente, ha detto che ci sarà non solo lui ma anche altri esponenti del governo, quindi altri ministri. Mi sembra che si sta prefigurando un'inaugurazione col capo dello Stato, col presidente del Consiglio, con ministri. Con ambasciatori. Insomma, Napoli al centro del mondo. Credo che sia un passaggio importante. Noi ci auguriamo che nei prossimi giorni la città e non solo la città, città e regione, siano quanto più coesi e possibile. Questo è un evento per il territorio, per i cittadini, per gli abitanti, per gli impianti sportivi, per gli sportivi, per i viaggiatori. Insomma, mi auguro che almeno nei prossimi giorni si perda un poco il gusto di fare solo propaganda da parte di qualcuno, perché qua si lavora e si lavora tanto. E vorrei ricordare, questo parlo di orgoglio napoletano, oltre che orgoglio di fare il sindaco di Napoli, in meno di un anno, e parlo della città di Napoli, non so le altre città come stanno andando, spero e mi auguro tutto bene, la città di Napoli ha messo in campo con iniziative tutte autocotone, cioè operai, impiegati, amministrativi, tutti sotto la direzione del Comune di Napoli. Lo vorrei ricordare, perché ieri poi sentivamo alcuni, oltre a prendersi meriti, come ogni giorno, come dire, di essere quelli che cacciano dalla loro tasca i soldi, ora si vengono pure i meriti dei cantieri. Cioè, sinceramente, andiamoci piano, perché qua i meriti sono delle persone che in 8-9 mesi hanno fatto un lavoro incredibile e stanno buttando ancora il sangue per arrivare pronti il 3 luglio. Quindi questo è merito di questa città, che nessuno ci mette il cappello, perché poi c'è un limite a tutto.